Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, siamo su Call of Duty Advanced Warfare e se vi ricordate, quando l'ho preso al day one, vi avevo detto che mi intrigava l'idea di fare un Road to Commander o comunque una serie, insomma, un po' di video su questo code perché finalmente dopo tanti anni è un code che mi piace veramente veramente tanto però avendo già cominciato a giocare all'epoca, avevo detto che quando avrei prestigiato avrei casomai di cominciato da zero perdo al livello 1 e fatto il Road to Commander, chiaramente non registrando ogni episodio ma almeno partendo dal livello 1 e arrivando, se ce la faccio, al livello 50 di recente sono arrivato appunto al livello 50, quindi adesso sono pronto per prestigiare e ricominciare dal livello 1 inizio adesso perché, come detto, a parte che sono al livello 50 quindi ricominciamo da 1 e facciamo il Road to Commander perché ricordo Commander, Cyber, Comandante, livello 0.50 ma anche perché sto vedendo in questi giorni un po' di video e di recensioni del DLC del primo DLC di code che è già uscito su Xbox e mi piace un casino quindi sono abbastanza convinto di prenderlo tra un po' quando uscirà anche su PlayStation 4 e penso che quando arriverà questo contenuto scaricabile tornerò a giocare molto assiduamente a code e quindi motivo in più per cominciare a fare i video adesso ovviamente ripeto la premessa che avevo fatto anche quando ho preso il gioco io adoro code anche se non sono per niente bravo, mi dispara tutto quindi in questa serie, se poi sarà una serie perché dipenderà anche dal vostro feedback se la cosa vi piace perché se vedo che non vi piace non è utile che la continuo però comunque quello che sto per iniziare lo sto facendo per puro divertimento non sono per niente bravo quindi non sto qui a fare lo sborone nel senso sarà una cosa molto easy perché code sono veramente veramente un hub a code anzi negli FPS in generale code è quello dove me la cavo meglio e comunque me la cavo molto male però avrete modo di vederlo con i vostri occhi fra poco per cominciare appunto andiamo in operativo prestigio e prestigiamo è la prima volta che prestigio è il primo prestigio questo qui in Advanced Warfare ok, 0 sfide, tutto quanto, vai vai, ulteriori informazioni scegli uno sblocco permanente, perderai tutto ciò che hai ottenuto inclusi armi, sbloccati, esperienze acquisite, sfide superate dovrai salire nuovamente di grado, riottenerle, solo i biglietti da visita, icone, emblemi ok, vabbè, come al solito insomma scegli uno sblocco permanente e non so che diavolo significhi allora, queste sono le parti dell'equipaggiamento la principale secondaria è le funzioni EXO e il lanciatore EXO ma non ho capito perché lo sblocco permanente lo so, ah, mi fa scegliere un'arma che posso sbloccare permanentemente ah, boh, non saprei io la prima run me la sono fatta tutta con l'AK2 e mi sono trovato benissimo ma in realtà non ci sono armi che mi piacciono particolarmente sono un po' indeciso se sbloccare magari un fucile d'assalto, uno tra l'IMR e l'MK14 e provarli subito oppure se magari prendere, che ne so una specialità anche se magari è una cosa un po' stupida però me la prendo subito eh, tipo il gioco di prestigio non sarebbe male per niente prestigiatore, vabbè, penso sia la stessa cosa ma sì, dai, facciamo prestigiatore sì, dai, facciamo così, tanto non è che me ne frega più di tanto non sono un fanatico delle classi, della personalizzazione facciamo così, vai, vai ok quindi ci siamo, livello 1, ricominciamo allora noi oggetti 12 ah sì, tutte ste robe qui eh, carini anche se adesso vi faccio vedere anche un po' il mio personaggio vi faccio vedere un po' tutto prima di cominciare questo è il mio personaggio, in realtà sarebbe una donna sotto tutta l'armatura c'è una donna però vabbè, adesso non sto a modificare anche perché mi piace così vabbè, crea una classe non penso ah sì, vero beh, mi ripendo il mio HP quale dei due però? beh, questo qui eh, questo è chiaramente una cosa che vanno sbloccate poi dopo eh, lasciamo lo stinger di qua, va bene poi specialità facciamo mmm leggero no, invisibile questo mi piace di più poi qua mettiamo no, mettiamo prestigiatore eh sì sì, sì mettiamo prestigiatore e qui mettiamo questa la togliamo proprio che tanto non mi serve poi togliamo anche il Warbird che tanto prima che i voto è il 50 figuriamoci e mettiamo qui ah, non posso giustamente devo sbloccarle il wildcard vabbè poi ci penseremo vabbè allora per il momento lasciamo una di queste lasciamo facciamo resistenza eh, qui mettiamo mettiamo scudo anche se non lo userò mai però anzi no mettiamo overclock vado a usare la velocità granate questa per forza accessori chiaramente non si può mettere niente vabbè lasciamoci al Warbird adesso non mi costa nulla a me ne creano i punti per sbloccare non ce l'ho via ok la nostra classe è al momento direi che è pronta allora io direi di buttarmi in un dominio che è la modalità in cui mi trovo più a mio agio adesso che ho una classe abbastanza scarsa facciamo dominio ok siamo in una partita già iniziata dunque ecco subito via subito prima uccisione bene ok con calma di qua di qua di qua eccolo no pezzo di cacca vabbè eh bene prendono A e quelli di prima merda 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 oh adesso mi riprendo anche A oh no questo non sta con me male molto male come prendiamo C beh riprendiamolo dove è andato però ok è un momento un momento tu crepi quanto è lento però nei movimenti mamma mia ah io ho un warboard muori anche tu bellissimo warb disponibile bene si provi col cavolo che esco adesso che c'è il warboard no ho messo il warb c'era già sono un idiota no me la son tirando no ragazzi sta facendo un casino pazzesco beh però forse li ho uccisi si li ho comunque uccisi uno almeno ecco pezzo di cacca voli attenzione attenta che patate prende mia bravo bravo arrivo anch'io aspetta aspetta no tra l'altro io ho il bonus a velocità mi scordo sempre di usarlo eh vabbè no scusa ho sbagliato conquistiamo bravo UAV alleato in sorvolo come assist crepa no ma credo sempre io occhio andiamo a prendere B dai 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 vai io mi metto qui tu stai lì bravi bravissimi dentro 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 dai livello 3 buono adesso io con molta calma riesco anche a buttarmi qua su A bene ho fatto un assist abbiamo preso anche A bene mettiamo l'hub ma come la torretta no 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 adesso aspetta 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 un momento aspetta boh mettiamola qua così a caso come è che mi ingasso vabbè buono dai la torretta peccato l'ho presa all'ultima non male come prima partita andiamo qua 7 quasi radio quasi radio pari dai stanto una morte in più di te lo faccio molto peggio anche se ho fatto pochi punti bene bene mi piace sta mappa dai oh aspettatemi non può dire la senza di me spesso mi perdo spessissimo anzi mi perdo la prima bandiera mi volto spariamo granate a caso niente hanno già preso video tra l'altro aspettatemi eh non ce la faccio sì sotto controllo oh oh occhio che arrivano occhio che arrivano occhio che arrivano nooo prendiamo B prendiamo B no il vulcan no dai 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 sì sì adesso ne resto assolutamente qui finché c'è il vulcan e stiamo così non mi muovo eh lo so devo camperare abbia le pazienza avete messo il vulcan non l'ho mica avuto io abbiamo perso B ho capito ma non posso uscire a parte che non vedo niente pure il warboard allora voi volete costringermi a camperare dai 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 bravissimo andiamoci da qui guarda ste merda che si sono messe una torretta pure un casino aiuto 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 eh vabbè pure pure il bombard no no alleato giusto giusto vabbè bombardate bombardate vandalismo così a caso tu crepi bene io conquisto bene adesso qualcuno arriva a uccidermi sicuramente eccolo uh grazie eccolo dal cielo dal cielo cadono dal cielo tiranfall aiuto ma non è molto leale però ma siamo rimasti in quattro ma siamo quattro contro sei bombardamento alleato in corso perdiamo dai 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 io me ne vado da qui però ecco i attenzione 60 operario e crepa pure dai dobbiamo assistenza al warboard dove si vede uh c'è della gente c'è della gente guarda guarda questi guarda questi guarda questi questi questo 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 ok perdiamo no non perdiamo niente togliti no c'è un altro lì porca merda porca merda brucia bene come siamo messi all'intervallo che bel fucile per terra io personalmente non sto andando neanche malissimo con i punti beh radio pessimo ma non è quello il mio obiettivo perché non sarei capace di tenerlo in positivo dai dai tutti subì tutti subì tutti subì tutti subì come se non ci fossero domani controlla warboard nemico in volo conquistiamo bravo questa merda questa merda c'è un altro no sono mia sono mia sì 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 adesso qua ci piace pure la torretta levate 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 no 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 porca tu non provo ma scusami perché ti spawno qui dentro sono morto qua no eh certo pure sì vabbè e mi fa respawnare qui ma c'è qualcosa che non va che mi respawno però sì vabbè che cos'è quel coso ecco basta fatemi giocare il nemico prende B perdiamo bravo oh abbiamo perso alfa togli di va bombardamento alleato imminente conquistiamo alfa alfa sotto controllo ok il nemico prende B abbiamo perso B B mano nemica dai dai qualcuno faccio saltare per aria con la granata no solo hitmarker vabbè il nemico prende A abbiamo perso A bravo no mi sono cioè non ditemi che sono morto sulla mia granata non posso aver fatto sta cosa non siamo più in vantaggio conquistiamo in vantaggio oh no no non ci siamo non ci siamo il nemico prende C il nemico il nemico muore no 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 scherzavo eh vabbè il nemico prende Charlie bombardamento alleato imminente UAV alleato no crepa vabbè dove è andato trema tutto non capisco più niente nooo ma si può morire così no no non perdiamo proprio niente no dai 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 andiamo su poi non capisco niente non capisco niente non vedo niente non vedo niente niente neanche la soddisfazione di un'ultima uccisione prima di che finisca la partita che tristezza però abbiamo vinto 2000 punti credo di aver dato anche il mio contributo era qualche difesa e un po' di catture sicuramente non con le uccisioni perché ho fatto schifo credo di aver urrato pessimo vediamo no ragazzi no io lo censuro 1134 non è legale è proprio legale però ho fatto un discreto punteggio non buonissimo neanche bestia dai io ragazzi chiudo qui con con il primo episodio del del road to commander che poi non so dipenderà anche un po' da voi se volete che la cosa continui fatemi sapere anche nei commenti vediamo un po' qual è il vostro feedback a me l'idea piace perché ho detto soprattutto poi con l'uscita del DLC probabilmente giocherò parecchio a call of duty quindi quindi a me non mi spiacerebbe fare un gameplay ogni tanto ditemi un po' voi votate appunto con i pollici lasciate un commento e sarò curioso di leggere appunto il vostro feedback grazie per aver seguito il video ci vediamo alla prossima ciao